Musica Prima giornata di lavoro nel ritiro di San Zeno di Montagna per le ragazze giallo-blu e rientrata dal Brasile e anche l'italo-brasiliana Dayen D'Arocha dopo le esperienze con la nazionale verde oro allora andiamo a sentire Dayen D'Arocha Dayen, una bella esperienza con la nazionale brasiliana hai disputato una partita ufficiale e purtroppo non sei rientrata nel gruppo dei mondiali Ha fatto questa esperienza con la nazionale alla fine il mister non mi ha chiamato ma l'esperienza è valida penso che questa esperienza possa anche crescere di più Adesso inizi finalmente un campionato dall'inizio qui in Italia con il Verona femminile Aspetavo per questo momento è secondo anno che gioco qua e adesso inizio un stadione con tutti la squadra, fatti un retiro, tutto Mediamo di fare un guardolino grande come la stadione scorsa che è arrivato al quinto corso Grazie a tutti Grazie a tutti